nuovo spettacolo di cabaret della coppia porro rossi a sant'angelo di giano nel principato di sant'angelo di giano ma questa volta destinato a allora come vedi qua guarda l'officina si chiama è un posto bellissimo dove dove i ragazzi autistici lavorano è una bellissima officina fanno delle cose meravigliose fanno buonissime tra l'altro delle marmellate anche particolari gusti particolari non le abbiamo assaggiate sono buonissime quindi venite perché perché saranno in vendita quella sera se volete fare una cosa bella e buona è proprio quella vedere un bello spettacolo di cabaret perché lei è bravissima io sono solamente il suo la sua spalla mio chitarrista però parleremo anche di sant'angelo perché i sant'angiolini lo sanno che io parlo di sant'angelo ma anche i lodigiani per cui invitiamo anche i lodigiani a sant'angelo lodigiano al guarda però dico al teatro dell'oratorio san luigi via alessandro manzoni 7 a memoria l'ho detto non abbiamo detto quando allora sabato 11 novembre alle ore 21 per venire basta venire lì perché sarà un'offerta ci sarà un'offerta libera però si può anche prenotare e per prenotare dovete andare di si riesce a fare un ecco ecco per prenotazioni nel senso con la prenotazione si prenota il posto ok non il biglietto che non c'è e potete chiamare marco al 335 57 99 859 quindi l'appuntamento è per sabato prossimo 11 novembre alle ore 21 a sant'angelo lodigiano quando arrivate a sant'angelo chiedete dov'è l'oratorio san luigi e lo dicono tutti vi dicono vai avanti sulle sinistre a destra e poi si è arrivato così fanno a sant'angelo ciao a tutti vi aspettiamo sabato sera non mancate no ciao